ciao amica ciao amico mi chiamo marcello faccio questi video perché sono un appassionato di moto se anche tu come me lo sei iscriviti al canale e attiva la campanella che tratterò due vari di motivi al termine del video per fare tutto ciò viene scritto un amico sul canale senza indicare il suo nome perché vuole vorrebbe avere un confronto fra benelli e la voge proprio dal punto di vista delle dimensioni quindi benelli per essere completi trk 502 x versus voce valico 525 ds x un confronto di tipo dimensionale perché vedendolo in foto avendo la voce un peso minore viene il dubbio che quest'ultima possa essere una moto tra virgolette più piccola quindi a prima vista essendo la benelli notoriamente di grandi dimensioni questo potrebbe confermare l'ipotesi ma cominciamo a vedere la lunghezza totale che per la benelli di 2220 mm mentre per la voce si parla di 2.215 mm quindi una differenza di lunghezza totale delle due moto praticamente nulla praticamente sono uguali per quanto riguarda invece l'interasse abbiamo appunto per la benelli 1505 mm e per la voce 1450 mm la differenza in questo caso è di 55 mm quindi circa 5 cm in questo caso c'è una piccola differenza per quanto riguarda proprio l'interasse l'altezza invece della sella benelli è una sella alto 860 mm da terra mentre la voce nella voce la sella 815 mm anche perché qui una differenza di 45 mm cioè circa 4 centimetri anche perché stavo dicendo l'iservatorio della benelli contiene 20 litri mentre quello della voce ne contiene 16,5 litri quindi 3,5 litri in meno quindi ci può essere una differenza da questo punto di vista questo punto direi vediamo ecco la benelli qui che si presenta appunto imponente nelle sue forme in conclusione dal punto di vista proprio dimensionale geometrico qualche differenza c'è per quanto riguarda invece il peso si parla di 235 scusate chilo chilogrammi per in ordine di marcia insomma per la benelli mentre per la voce vengono dichiarati 194 kg a secco per fare un confronto ho visto che si può quantificare in 230 13 scusa chilogrammi a secco il peso della voce quindi con una differenza di 19 kg poi qui sotto in descrizione metterò il documento se ti interessa vedere i numeri in questo caso la differenza di peso di circa il 10 per cento qui non è eccessiva ma dal punto di vista psicologico dichiarare un peso al di sotto dei 200 kg può fare la differenza a questo punto direi di vedere più nel dettaglio le moto dal punto di vista proprio tecnico quindi benelli si propone con questa interessante moto che da una parte offre un'estetica della moto grande perché in effetti la sua parte estetica la fa somigliare una bmw di ben altra cubatura ma soprattutto prezzo in effetti si data poi di una moto onesta che tanti acquirenti sono stati soddisfatti delle sue caratteristiche che la rendono versatile e adatta a vari utilizzi dalla città dove le sospensioni assorbono bene le asperità e inevitabili buche a un utilizzo casa lavoro dove la protezione aerodinamica è preziosa grazie al bel cupolino al paramani per passare l'autostrada con il bel salvatore da 20 litri che permette di intraprendere viaggi anche lunghi in piena sicurezza l'utilizzo in fuoristrada senza pretese naturalmente la ciliegina sulla torta poi il prezzo si parla di 5.990 euro un prezzo che non può che far cadere la scelta su questa moto che offre tanti vantaggi dal punto di vista tecnico abbiamo un motore che un bicilindrico parallelo quattro tempi la cilindrata ai 500 centimetri cubici raffreddato liquido la potenza massima di 47,6 cavalli 8.500 giro al minuto la coppia massima di 46 Nm 6.000 giro al minuto la distribuzione avviene con due assi e cammi in testa e quattro valvole per cilindro il telaio formato da un traliccio in tubi d'acciaio con piazza in acciaio e la sospensione formata da una forcella a stelle rovesciate con le stelle al 50 mm in questo caso ad esempio la differenza rispetto a voce che in quel caso gli stelle sono da 41 mm quindi da una parte dall'altra eccetera si è guadagnato sicuramente del peso anche se dal mio punto di vista dimensionalmente le moto sono molto simili stavo dicendo di 50 mm il diametro l'escursione di 140 mm se l'abbiamo già detto 860 mm a terra al posteriore invece abbiamo un forcellone scillante con questo caso il forcello in acciaio è stato poi sostituito nella 702 con un forcellone in alluminio per guadagnare un po di peso quindi con il mono amortizzatore regolabile nel precarico della molla freglie tra lì con l'estensione pianto affernante formato da un doppio disco a 320 mm l'anteriore con pinza flottante a due pistoncine 260 mm al posteriore con la pinza flottante a un solo pistoncino le ruote sono formate da cerchi emozzi lega di alluminio e raggi in acciaio nella misura di 19 pollici l'anteriore 17 al posteriore serbatoio ha una capacità di 20 litri pesano di rimarci di 235 kg a un prezzo di 5.990 euro sono una moto che ha sicuramente assegnato un'epoca a questo punto parliamo invece della voce valico quindi vedete che mi dimensionalmente si presenta molto simile con il becco anteriore e vediamo le caratteristiche anzitutto la voce un'azienda cinese che ha presentato l'aggiornamento della voce 500 con il motore bicilindrico parallelo passato da 471 494 cm3 il motore beneficia di due mappe di regolazione eco e sport e l'abs può essere escluso sulla rota posteriore così come il controllo di trazione questo ha comportato un aumento della coppia fatto che la cilindrata sia aumentata e parliamo di 50,5 newton metro 7 mila giri al minuto la potenza però rimasta nei limiti dei 35 kg cioè 47,6 cavalli appunto per il possessore di patente a 2 cambia l'estetica rispetto al precedente modello quindi più dinamica importante nei volumi che vede l'arrivo del parafango alto a becco cupolino è regolabile in altezza i fari sono full led e di nuovo anche la strumentazione lcd a colori da 7 pollici che invece non ha la benelli le ruote sono a raggi con l'anteriore 19 pollici da 7 pollici al posteriore sospensioni sono formate all'anteriore della forcella della kayaba stelle rovesciate diametro 41 mm escursione 156 mm mentre al posteriore siamo in presenza del mono ammortizzatore con il leveraggio progressivo regolabile nel precarico della moda l'impianto frenante a triplo disco a 298 mm anteriore con le pinze della nissin la sella una terza di 830 mm il peso vuoto dichiarato in 190 kg circa insomma il serbatoio dicevamo 16,5 litri il prezzo ufficialmente 6290 euro ma in questo momento c'è la promozione 5990 quindi perfettamente confrontabile con il prezzo di benelli se ti è piaciuto il video metti un like se non ti è piaciuto metti dislike ma iscriviti al canale e attiva la campanella primo gratis non si paga nulla secondo faccio un video al giorno se sempre aggiornato aggiornato sui contenuti qui sotto i tuoi commenti sono sempre graditi ciao buona serata